E' ora di cambiare, diamoci da fare. E ritengo che ci siano delle battaglie che siano trasversali, che sono di tutti i cittadini. Però, secondo me questa cosa è un messaggio da far passare, perché molte persone si fermano un po' a quello che sono i pregiudizi sul Movimento 5 Stelle. Perché pensano che noi, ah, Movimento 5 Stelle, questi sono contrari a tutto, questi vogliono far casino, e invece secondo me il messaggio da far passare è proprio questo. Vuol dire, guardate, io sono un consigliere regionale, faccio parte della Commissione Cultura, bla bla bla. Mi hanno detto di questa iniziativa che si terrà a Miratte, giusto, e che mi pare un'iniziativa veramente pregevole e molto interessante, anche perché magari le persone non lo percepiscono, ma in Regione si è sensibili a quello che porta alla cittadinanza. E dobbiamo rendere anche le amministrazioni comunali sempre più sensibili. Molte volte, lo diciamo, dico, ci sono dei sindaci che lavorano bene, perché è la verità, ma tante volte sono i cittadini che non portano quello che vorrebbe, che sono passivi. Poi si lamentano al bar, ma non fanno niente. Quindi dico, adesso invece è il momento, questo momento storico, è un momento in cui i cittadini possono veramente muoversi e dire la loro. E quindi è ora di cambiare e diamoci da fare.